Ciao, sono William Bisacchi di blog Bisacchi.it e oggi andrò a rispondere alla domanda perché dovresti scegliere infissi in alluminio. Ma prima di rispondere a questa domanda voglio fare una precisazione. Stiamo parlando di questi infissi in alluminio, quindi infissi in alluminio costruiti come si deve e posati come si deve. Tra l'altro questi infissi sono molto molto belli, ma torniamo a noi, parliamo di infissi fatti come si deve e posati come si deve. Perché? Perché tutto quello che ascolterai in questo video non vale per qualsiasi infissi in alluminio, non facciamo di tutta l'erba un fascio. Partiamo subito dal primo grande vantaggio del perché dovresti scegliere. La durata nel tempo. Questi infissi ti consentono una durata nel tempo veramente veramente grande, oserei dire quasi infinita, cioè trattandoli come si deve è un infisso che dura veramente tanto, quindi il suo costo iniziale più alto rispetto ad esempio un infisso in PVC verrà ampliamente ricompensato dalla durata del tempo che ha questo materiale rispetto agli altri. Quindi alla fine, oltre a tutti i vantaggi che conoscerai tra poco, avrà anche quello di avere speso meno nel tempo. Secondo vantaggio è la scorrevolezza della ferramenta. Qui la ferramenta ha una fluidità, una scorrevolezza che non potrai trovare in nessun altro materiale. Questo è proprio il punto di forza di questi tipi di infissi. Mi raccomando, soprattutto qui vale per questo tipo di ferramenta. Se metti una ferramenta a nastro, una ferramenta cosiddetta cava 16 che sono quelle usate nel legno del PVC, tutti questi discorsi decadono e ti troverai con le maniglie inchiodate così, perché la ferramenta nel tempo va a legare, non lavora bene e ti trovi le finestre da aprire e chiudere più dure, una cosa non piacevole. Con questo tipo di ferramenta questo non può succedere. Terzo vantaggio, la luminosità. Luminosità dovuta a che cosa? Dovuta ai profili più sottili rispetto agli altri materiali. Quindi avendo un materiale più resistente mi consente di fare superfici più piccole e ho una superficie di vetro più grande, quindi mi entra più luce all'interno della stanza, avrò delle stanze e quindi una casa più luminosa, più benessere per gli occupanti di quella casa. Per collegarsi direttamente ai profili più piccoli, con questi tipi di finestre abbiamo un design molto molto più bello. Abbiamo un design più slim, minimale, che è quello dove sta andando adesso il mercato dell'arredamento e delle case, delle ville più belle che stiamo facendo e subito collegato a questo c'è anche il discorso delle dimensioni, che è un altro grande vantaggio di queste finestre. Possiamo fare cose veramente veramente grandi, impossibili per gli altri materiali, tranne anche per l'acciaio inox. Il record del 2019 è una vetrata scorrevole da 10 metri e mezzo, sia che più dovere, 10 metri e mezzo, per 2 metri e 80 in altezza, divisa in 4 vetri, le due centrali apribili e sopra le laterali fisse. Sono cose veramente da Guinness dei primati. Ultimo grande vantaggio, il discorso della personalizzazione dei colori. Questa è una verciatura, un grigio opaco, questo è un color terra opaco. Queste colorazioni qui sono eseguite a polvere a fuoco a 180 gradi, quindi posso fare qualsiasi tipo di colore, dal nero arrivando al bianco, passando per tutto quello che c'è nel mezzo e avrò la resa opaca, lucida o semilucida o anche effetti acciaio, quindi una gamma infinita, ben diversa dall'effetto che ho con una pellicola. La pellicola al tatto è molto molto da sentire, con il tempo che si può staccare e ha una gamma di colori limitata. Queste finiture così opache, anche al tatto, sono molto molto belle, cioè sono tipo vellutate, sono delle finiture che meritano davvero tanto. Quindi ricapitolando, abbiamo il primo vantaggio che è la durata nel tempo, io l'ho messo in ordine, fai come vuoi insomma, durata nel tempo, la ferramenta molto molto fluida e scorrevole e anche quella indistruttibile, dura nel tempo quanto il serramento. Terzo vantaggio abbiamo detto la luminosità, quarto vantaggio abbiamo detto design, quinto vantaggio abbiamo detto i colori. Ti ho raggruppato i principali, ce ne sarebbero tanti altri, ma questi sono proprio quelli principali. Se hai una di queste cinque esigenze, dovresti scegliere questi infissi qua. E te li consiglio con il sistema Bisacchi. Ciao, al prossimo video.